Ok, buongiorno. Oggi siamo a Londra, all'Olympia Venue, per il primo giorno di A Place in the Sun. Siamo qui con la nostra associata FIAIP, Dora Gianmarco, da Silvi, provincia di Dervi. Allora, Dora, raccontaci un po' le prime impressioni. Le prime impressioni sono molto buone. Questa fiera è sicuramente una fiera interessante per il mercato estero inglese. Noi abbiamo scelto di venire qui perché sicuramente il mercato straniero risponde a quello che è il nostro target, che è un target medio-alto e sicuramente qui l'abbiamo trovato ed è un'ottima occasione, un'ottima vetrina. Ottimo. Questa iniziativa FIAIP cosa ne pensi? Di mettere insieme tanti associati? È un'ottima idea perché dà maggiore visibilità, avendo uno stand più grande, sicuramente permette di essere più visibili e quindi di attirare più clienti e dare un servizio migliore. Ottimo. Ti ringrazio. Grazie. Buon lavoro. Grazie.